Ultimi preparativi qui a Palazzo Ardinghelli. Si sta allestendo la piazza per consentire tutte le attività che ci saranno domani, nel giorno finalmente, dell'inaugurazione della sede aquilana del Maxi. Un momento tanto atteso da parte degli aquilani, un'inaugurazione che era prevista già nel mese di novembre 2020 e poi rimandata a casa del Covid, quindi c'è davvero tanta attesa e si stanno ultimando davvero gli ultimi dettagli per rendere tutto perfetto per domani per l'inaugurazione. Un pezzo di storia della città che torna a vivere diventa polo della creatività contemporanea, un restauro attento e certosino, quello del palazzo, durato otto anni per restituire un autentico gioiello del barocco aquilano. Il palazzo aveva subito danni strutturali importanti dopo il sisma. I lavori di ripristino sono stati finanziati quasi interamente dalla Federazione Russa, con 7,2 milioni di euro, altri contributi dal Ministero per i beni e le attività culturali, con 300 mila euro e dall'otto per mille con un milione di euro circa. Il palazzo Ardinghelli era la storica dimora dell'omonima famiglia di origine toscana. Fu edificato tra il 1732 e il 1743, dopo il terremoto del 1703 che distrusse la città. Il palazzo, dopo la morte di Filippo Ardinghelli, è stato interessato da secoli di degrado e negli anni ha ospitato gli uffici della prefettura, l'anagrafe comunale, sino ad essere venduto al demanio dello Stato e alla fine del 2008 affidato al Mibact. I tecnici hanno sottoposto il palazzo ad un restauro conservativo, con consolidamento sismico e parziale ricostruzione delle parti crollate, come la copertura della sala della voliera, dove è stato ricostruito lo scheletro del soffitto a padiglione, distrutto dal sisma. Il restauro ha svelato anche delle sorprese, come le pietre dell'antico portale o un dipinto sul soffitto di una stanza, o ancora le decorazioni che si intravedono sulle parti esterne del cortile. Salva guardato l'intonaco originale dello scalone monumentale, quello della pietra della facciata, restaurata anche una porzione del pavimento originale. Il segretariato regionale per l'Abruzzo è stato la stazione appaltante e la sovrintendenza hanno realizzato l'imponente progetto negli ultimi anni, anche in collegamento con la fondazione Maxi, per adeguare gli spazi al museo. Ma Palazzo Ardinghelli rappresenta anche le due facce della stessa medaglia della ricostruzione cittadina, in piazza Santa Maria Paganica, dove si trova, la chiesa è ancora all'anno zero. Nessun lavoro, un peggioramento negli anni delle condizioni, più volte denunciato, anche dai residenti, da chi ci abita vicino. La proprietà della Curia, che aveva un progetto, a quanto pare recepito dalla sovrintendenza, ma da quel che si sa c'è un problema grande di fondi mancanti e quindi ad oggi la situazione è quella che si vede.